In un mondo lontano, 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 insomma abbastanza in culo, tipo a due metri da voi, aspetta ma chi è scritto sta roba? In un mondo, un momento, questo l'ho già detto, in ogni caso, in un mondo dominato da violenza, guerra e distruzione, governata da un crudele sistema, monarchico, talmente oscuro da chiamarsi sistema, mazza fantasia portando via, eh? Qualcosa sta per cambiare. Cazzo, tutto sto tempo per dire stravaccate. Signore, la situazione è pessima di essere tui misti. Signore, ma la situazione non è poi così grave. Io ho dei becco tu. Sappi che il nostro paese pensa che il nostro governo sia una tirannia. teoricamente, guardi, guardi, possiamo discuterne da persone civili. Questo è il mio modo di pensare. Guardi, portatelo via. Cominciamo a tagliare il personale. Tornando al discorso di prima, ho ideato una nuova legge per togliere queste rognose interferenze. Tutto il popolo deve tenersi allo stile di vita, imposto dalla legge, pena, la morte. Non crede che questa legge sia un po' troppo brutale per il popolo? Lei forse si sta opponendo? No, dico solo che questa legge è controproducente. Ma davvero? Lei ha appena dimostrato di essere un ribelle. Signore, non la pensi male. Pensare? No, caro mio. Lo dicono i fatti. Ecco i fatti. Signore, posso spiegare? La riunione è finita. Si pentirà malamente per quel che è fatto. Scar, vieni qui. Ho un lavoro per te. La riunione è finita. La riunione è finita. We bring to the world new order Iora Hitler's world new order Everyone a foreign race We love the poor in space And we bring to the world this order Alec! Owen! Ciao! Ma alla fine sei arrivato qua Eh, se non lavori non cambi Sarei venuto in ogni caso Ho d'ho offerto un posto di lavoro Comunque te avrei chiamato Grazie, ma in cosa consiste? Sì, dobbiamo aspettare quando navighiamo Mi chiamo il comando Sì, comando L'abbiamo trovato Passo e chiudo Questa è il progetto Questa è la sua Grazie a tutti